Sembra proprio che sabato si giocherà. In ottemperanza al nuovo protocollo sanitario FIP per le competizioni nazionali dei non professionisti, i membri del team squadra del Pistoia Basket, risultati negativi all'ultimo controllo, si sono sottoposti nella giornata odierna al tampone antigenico, anche detto tampone rapido, che ha dato esito negativo. Sempre secondo il protocollo, quest'ultimi dunque potranno proseguire gli allenamenti e le attività sportive programmate, per cui la partita tra Giorgio Tesigruppe e Eurobasket Roma resta regolarmente in programma per sabato 31 ottobre alle ore 18 presso il Palaterme di Montecatini, purtroppo a porte chiuse. Ultima ipotesi è che l'ASL possa dare indicazioni negative sulla disputa dell'incontro, quindi una situazione complessa e, come dicevamo, in divenire, per cui di ora in ora la situazione può avere nuovi sviluppi.